Da quando esiste l'assicurazione auto, abbiamo adottato un metodo di calcolo per il profilo di rischio dei clienti utilizzando una combinazione di fattori quali l'ubicazione, lo storico di sinistrosità, genere, età, occupazione, la distanza percorsa e altri elementi di valutazione. Oggi ci troviamo di fronte a un rapido aumento dei veicoli connessi, così come a sempre maggiori progressi nelle tecnologie di sicurezza delle auto e per la guida autonoma. Oggi al centro della scena c'è l'auto. L'ExisNexis Risk Solutions fornisce una gamma di prodotti che sfruttano e distribuiscono i dati dei veicoli. Tutto parte dai dati relativi ai veicoli, dati puliti e accurati. Traducendo i dati di matricolazione nel numero di telaio delle auto, abbiamo costruito una solida base dati. Grazie ai sistemi telematici integrati dei produttori auto, forniamo delle soluzioni assicurative basate sull'uso effettivo del veicolo e una scala di punteggio del comportamento di guida. Forniamo letture dati a distanza direttamente dal contachilometri dei veicoli, abbandonando stime e previsioni ed evitando potenziali errori. Forniamo anche soluzioni basate sullo stile di guida del conducente, Pay How You Drive. Gli assicuratori potranno così lanciare programmi di sicurezza e di valutazione del conducente per il mercato di massa. Nel 2020 la maggioranza delle nuove auto sarà dotata di sistemi avanzati di assistenza alla guida, ADAS. Purtroppo però ognuno di questi sistemi ha un nome, calibrazione o funzionalità diversa, il che rende difficile l'integrazione in fase di sottoscrizione. Abbiamo quindi creato una classificazione comune degli ADAS, partendo da milioni di stringhe di dati e informazioni provenienti dai nostri partner OEM. Questo significa che le caratteristiche delle auto con le loro rispettive performance ora possono essere utilizzate e comprese dagli assicuratori. Grazie alla nostra integrazione è possibile accedere a una suite di dati delle case produttrici e a una gamma di prodotti dei dati provenienti dai veicoli, che potranno essere trasmessi all'intera catena del valore assicurativa al momento dell'utilizzo. Per maggiori informazioni si prega di visitare il sito www.insights.lexisnexis.com.